ciao a tutti in questo video tutorial voglio farvi vedere come realizzare il punto basso allora io mi sono portata avanti con una decina di catenelle come si fanno le catenelle l'ho mostrato nel video precedente adesso entro nella maglia nella catenella sottostante prendo il filo passo attraverso la maglia che ho sotto estrago il filo o due asole sull'uncinetto prendo il filo e passo attraverso tutte e due le asoline vado nella maglia successiva entro pesco il filo passo attraverso la prima asola o due asoline su l'uncinetto prendo il filo e passo entro nella maglia successiva pesco il filo 2 asole sull'uncinetto pesco il filo e passo maglia successiva entro pesco il filo passo o due asole sull'uncinetto prendo e passo attraverso le due asole maglia successiva entro pesco il filo passo pesco il filo e passo questo è il punto basso spero che questo video vi sia stato utile buona giornata